Ciao a tutti ragazzi, qui è il Spratano117 e benvenuti in questa nuova guida agli equipaggiamenti Battlefield 4. Prima di iniziare vi invito subito a passare dalla pagina Facebook del mio canale, il cui link sarà sempre in descrizione, e a lasciarci un mi piace e perché no a seguire anche tutti i post. Proprio in questi giorni abbiamo iniziato un progetto in cui appunto facciamo una raccolta di documenti, tipo Excel, una tabella, in cui raccogliamo oltre ai nostri link in tutte le piattaforme su cui giochiamo, PSN, Xbox Live, Steam e tutte cose del genere, pure quelle degli utenti, così facendo sarà più facile giocare insieme. Detto questo andiamo a parlare dell'argomento di oggi. L'equipaggiamento di cui ho intenzione di parlarvi è l'M18 Claymore, semplicemente Claymore, l'M18, nessuno lo conosce. Dettagli. Comunque, equipaggiamento disponibile per il supporto nei primi livelli si sblocca molto facilmente, e ultimo equipaggiamento disponibile, sbloccabile, per la classe Scout. Di per sé sono felice che rispetto alla maggior parte degli altri FPS, soprattutto rispetto a Battlefield 3, il funzionamento di questo equipaggiamento si è cambiato. Questo perché non basterà più semplicemente che una volta che voi la piazziate, un nemico passa davanti e esplode. No, finalmente sta cosa che è stupida e non è per niente vera, l'hanno tolta, perché io ne avevo piene le balle di morire con una Claymore messa sotto sopra, ma che esplodeva giusto perché io le passavo davanti. Claymore intelligenti. Comunque, sono felice che l'abbierò corretta, ma come l'hanno corretta? Semplice, facendo in modo che quando la piazzerete partiranno fino a tre fili, tipo corde, non so come identificarle, delle corde che si impianteranno dentro dei muri, per terra, dentro qualcosa, effettivamente dentro qualcosa, non importa cosa, e la Claymore esploderà soltanto qualora un nemico ci passerà e romperà sto collegamento, passerà nei cavi, nei fili, effettivamente così funziona. Ovviamente se tu le spari esplode, mi sembra scontato e vi farete anche il danno. Comunque, in ogni caso, le clip che vedrete in sottofondo dovrebbero essere abbastanza esplicative, dovrebbero spiegare bene quello che sto cercando di dirvi a parole. In ogni caso, questo è il modo in cui funziona, ossia non basterà più che uno ci passa davanti, boom, ma bensì dovrà interrompere il collegamento ai cavi, perché questa è una cosa bella? Perché così facendo, quando l'avversario mette una Claymore magari sopra le scale, o cos'è il genere, voi potrete fare molta attenzione, passarci attraverso, scavalcare, saltare, strisciare tipo alla Mission Impossible, ed evitare di esplodere per aria, perché così facendo sarebbe troppo facile camperare. Mettetevi in casa, mettete una Claymore sulla porta e via. Va bene no. E bene no. Va bene no, cosa vuol dire? Comunque, è bene no, in questo Battlefield non si potrà più. Quindi lascia anche uno spiraglio a tutti coloro che vorranno stanare dei maledetti camper senza lasciarci la vita per Claymore moleste. Detto questo, il video vuol già il termine. Spero che questo video breve ma intenso sia stato di vostro gradimento e che vi abbia illuminati nel caso in cui voi non foste a conoscenza del vero funzionamento delle Claymore. Perché lo dico? Semplicemente perché, oltre a tutti gli equipaggiamenti nuovi in questo Battlefield, la maggior parte di quelli vecchi sono stati cambiati e non tutti se ne sono accorti. Molti, magari all'inizio soprattutto, rosicavano perché mettevano una Claymore e non esplodeva. E beh, il motivo è proprio questo qui. Sono contento che le abbiano migliorate barra cambiate. Decisamente sì, perché come ho detto, finalmente le Claymore funzionano come dovrebbero funzionare. Detto questo io vi saluto, lasciate un mi piace, un commento se il video fosse stato di vostro gradimento, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci sentiamo. Ciao a tutti! Ciao a tutti!